ragazzi benvenuti al terzo video di questa giornata 20 e 18 del 20 05 2020 mangiamo l'oreo fresh milk snack ci ho preso gusto in tutti i sensi sia fare le recensioni che assaporare nuovi sapori mi piace molto il biscotto oreo proviamolo questo effettivamente lo stick gelato scade le 22 07020 niente ho scritto fresh milk snack proviamolo così giusto per inquietante visto da questo punto di vista all'inizio sembra il divestimento del cornetto classico dell'algida un cioccolato normale standard non chissà quanto è buono però è buono alla fine perché si sente quella fraganza quel sapore di oreo saluto alessandro un ragazzo molto gentile che ha commentato il mio video ciao e anche a tutti quanti gli altri nulla di che lo sconsiglio buono ma nulla di che è la fame che la fa da padrona non è buono buono Ogni boccone È cioccolatoso E alla fine Vengo l'oreo Ma nulla di che Mi do un 6 stentato Perché va a rinpensare Quella parte vacante Dello stomaco Grazie per la cortesia attenzione Ci vediamo presto Io resto a casa E bentornata Silvia Bentornata Silvia Bentornata Brava